Che caldo che sete, che caldo che sete, e tu mangia fagioni, dammi una limonata e vedi che ti sbrighi, piccolo bastardo, vai vai più veloce, toma vedi, ah mio, dammene ancora baffone, io lo ammazzo, no aspetta, questa è l'occasione che aspettavo, ah 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 ah, Disculpe cavalliero, però per legge posso servire solo a bimbi stranieri maggiore di 4 anni, e ha un documento, ah 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 ah, signor cavalliero, i vostri genitori dove sono? Mio padre sta facendo la siesta, perché lui è un vero lavoratore, e lui, una limonata e spettaculare, che freschita che sta, anda toma te otra, campeone, eh campeone, eh0iccapeone, si si capeone per la siesta Grazie a tutti.